Ciao Bella, come ti chiami? Mi chiamo Paola. Mi chiamo Paola Jezzi, faccio parte di una band da 18 anni, Paola e Chiara insieme a mia sorella, poi abbiamo avuto una pausa di 10 anni e adesso siamo tornati insieme a cantare. Faccio musica da sempre, da quando ho 14 anni. Parlando di quando ho iniziato a suonare con mia sorella ho ricordi bellissimi, le emozioni sono forti, anche molto vive. Ho vissuto la gavetta, quella dei locali, ho attraversato diverse ere, diciamo, sempre amando fortemente quello che faccio. L'entusiasmo, stampavamo noi i volantini, insomma, era una grande fatica ma era una figata per il senso. Paola è una persona molto preparata ed è una persona che ha un'esperienza professionale straordinaria, quindi è una persona che secondo me è giusto che stia lì. È un'ottima figura al tavolo perché oltre ad essere una grande pop star che comunque ha segnato un'epoca e ancora continua a fare musica, è anche una grande musicista. Una donna libera, forte, dolce, gentile ed è generosa, generosa anche nel supportare gli altri. Paola farà vedere molto di più di quello che la gente si immagina di lei. Sicuramente tirerà fuori dal cilindro qualche bel coniglio per mettere in difficoltà tutti noi. Lei fa un genere che in Italia a volte è visto, no? Quando dici pop la gente dice ah il pop, in realtà il pop è una cosa molto seria, devi essere molto bravo a farlo. È una persona dolce perché non fa la dura per dimostrare di essere all'altezza. Credo che questa sia una delle doti grandi che ha. È competente, preparatissima su tanti generi musicali. Il mio segreto è essere me stessa e mettere a disposizione quello che ho imparato in questi anni, di questo mestiere e della musica, che sono due cose distinte ma che devono dialogare. Grazie.